A riposto ieri si è insediata la quarta commissione consigliare permanente che si occupa di politiche sociali, turismo e spettacoli. La votazione è stata una sorta di fotocopia di ciò che era avvenuto due giorni prima in prima commissione con le elezioni di Eliana Maccarrone. Alla quarta eletto presidente il democratico Sebastiano Bergancini con cinque volti favorevoli e un astenuto. Adesso per chiudere il cerchio manca solo la terza commissione bilancio e finanze dove non dovrebbero esserci sorprese per la presidenza Francesco Grasso. Sul voto per le presidenze è intervenuta contattato telefonicamente Paola Emanuele. Non sono mai stata in corsa per la presidenza della quarta commissione sostiene l'esponente del megafono bensì avevo dato la disponibilità per la presidenza della prima viste le mie competenze professionali. Il megafono è dunque rimasto fuori dall'accordo che ha portato all'insediamento di prima e quarta commissione ed è probabile che della cosa se ne riparli la settimana prossima al rientro del sindaco Enzo Caragliano dalle ferie.